Allora Stefano dai noi ci vediamo questi due punti che voglio stare tranquillo All'inizio? E allora all'inizio! E poi questa cannottiera che te l'ha regalata? Questa è malata al mio nonno, ce l'ho dall'elementare, ci tengo io a questa Ah dall'elementare il tuo nonno! Ma per corteggio, dai vediamoci queste cose che... Si all'inizio ci vediamo, dai! Ok! Dai forza! Dai all'inizio dai, partiamo dai! In scena? Come scena? 30 secondi! Eh? 30 secondi? Ma questo è forza! Ma guarda, dobbiamo uscire, per uscire, ma dai! Ehi ma tu sei forza! Ma noi non possiamo fare così, ma... Ah ma io abbassi, mi puoi uscire! Dai, 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 dai... ! Grazie a tutti